Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così il problema riguardo al controllo su Call of Duty Black Ops 6 Ovviamente faccio questo tutorial perchè è proprio un errore in generale su tutti i Call of Duty e altri giochi Quindi in questo caso puoi risolvere direttamente il problema del tuo controller attraverso tutti i dispositivi che hai installato sul Quindi in questo caso andiamo direttamente su il logo di start qua sopra vai direttamente su gestione dispositivi Ora andiamo fino a giù fino a trovare Human Interface Device questo qua se in questo caso c'è un triangolino giallo su uno di questi dispositivi vuol dire che è quel dispositivo del tuo controller quindi non funziona Se c'è un triangolino giallo qua vicino tasto destro sopra disinstalla il dispositivo e riavvia il computer Se non dovesse funzionare fai aggiorna il driver di questo dispositivo se in caso c'è un triangolino giallo vicino a questi qua oppure puoi aggiornarli tutti Cerca i driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili dispositivi di input USB Avanti installazione del driver e basta In questo caso ora andiamo un attimo ad attivare vado ad attivare il mio controller è un controller wireless quindi In questo caso scendo fino a giù fino a trovare le periferiche ed eccolo qua Tasto destro sopra aggiornar driver cerchi driver nel computer scegli da un elenco di driver disponibili Ecco il mio controller faccio avanti e lo installo Ovviamente se il tuo controller è connesso al computer e funziona benissimo in generale funziona ma su Call of Duty non va Puoi risolvere in questo modo e adesso occorre riavviare il computer Ora andiamo a scrivere qua sopra direttamente controller Configura dispositivi di gioco USB avanzate Inserisci così il tuo controller che hai collegato al computer quindi le periferiche per giocare Proprietà e fai un test per vedere se il controller funziona E funziona bene Facciamo ok Se invece stai usando un controller della Playstation e lo hai collegato al computer Puoi direttamente scaricare il firmware update questo qua di DualSense Te l'ho lasciato in descrizione Ed eccolo qua lo scarichi lo installi Installiamo anche in Microsoft Windows Desktop Runtime Senza questo il programma non andrà quindi facciamo chiudi Quindi come ho detto questo è più per i controller della Playstation Faccio avanti Accetto Faccio avanti E lo installo Ed eccolo qua Connetti il tuo controller Connetti il controller PC via Bluetooth o cavo USB Ovviamente io non ho un controller della Playstation Solamente un semplice controller che me lo rileva come Xbox 360 ma non è Xbox Attraverso wireless Quindi tu connetti il tuo controller attraverso Playstation DualSense E puoi chiudere qua Se non dovesse funzionare Andiamo direttamente su dispositivi Impostazioni dei dispositivi Bluetooth e di altro tipo Andiamo fino a giù fino a trovare il nostro controller Ed eccolo qua Configurazione incompleta Quindi mi dice di riavviare il PC Puoi direttamente fare rimuovi Togliere così il cavo USB o la chiavetta Rimettere di nuovo il cavo o la chiavetta Connetto il mio controller Ed eccolo qua Xbox 360 per Windows E basta Quindi prova uno di questi metodi O provali tutti Quindi grazie a tutti per questa visione Se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao